Di Lippi in quella stagione, eccolo Simoni, mi sembra di vedere un po' di commozione mentre tutto il pubblico lo chiama Passarella più che meritata anche perché bisogna ricordare che al momento dell'esonero l'Inter a 5 punti dalla Fiorentina che era in testa ma a un solo punto dal Milan che poi finì per vincere lo Scudetto, era dentro in Champions League e poi soprattutto secondo me Giuseppe Simoni riceve questo tributo perché è sempre stato un gran signore e alla fine questo conto